Oggi abbiamo fatto la prima mostra e vedere i nostri lavori stampati su carta è stato molto emozionante, ci ha riempito anche d'orgoglio perché comunque abbiamo visto di persona con i nostri occhi gli apprezzamenti della gente che appunto si avvicinava a un lavoro piuttosto che un altro e la commentava dicendo quale preferiva e quindi è stato qualcosa che ci ha molto avvicinato alla gente di Troia. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta di questa serata è appunto il fatto che abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza in un progetto su cui avevamo lavorato anche se solo per due giorni comunque in maniera molto intensa e quindi insomma è stata una bella soddisfazione. Adesso comunque non abbiamo finito di lavorare stiamo continuando il secondo progetto e quindi passeremo una notte a montare il secondo video però diciamo che è stata una botta di adrenalina che quindi ci motiva ancora di più ad andare avanti a fare sempre meglio e ad avere sempre più soddisfazioni. Allora ciao, buonanotte e seguitemi!